Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, oggi parliamo di un nuovo token, di una nuova coin che devo dire in molti di voi mi avete segnalato, mi avete chiesto appunto di portare sul canale e di parlarne pubblicamente ovviamente come tema di discussione, come vedete a schermo si chiama Katgern Coin ed è appunto una coin soprattutto orientata al mondo NFT, quindi un pochino diversa rispetto alle ultime che abbiamo affrontato sul canale, ne parliamo come sempre insieme dopo la sigla Prima di cominciare il video, come sempre se ancora non l'hai fatto ti chiedo di iscriverti al canale cliccando anche sulla campanellina per le notifiche sui prossimi video, sulle prossime live che faremo sul canale e ti chiedo anche un like al video per supportare il canale con l'algoritmo di YouTube, mi raccomando questo è molto molto importante Quindi Katgern Coin, vediamo innanzitutto, viene definita come una NFT Focus Coin quindi un pochino diversa come dicevo prima rispetto alle ultime che abbiamo visto sul canale e attraverso appunto questo sistema deflazionario di premio istantaneo, quindi Instant Rewards si può andare a massimizzare il beneficio per gli holders dal sito ovviamente si può procedere con l'acquisto, ovviamente si può compare su PancakeSwap o direttamente dal lab sotto che vedremo poi durante il video facendo lo scambio con BNB, c'è anche un video tutorial che vi consiglio poi di guardare qui abbiamo il white paper che poi vedremo importante come sempre segnalo la parte della community in particolare la pagina Twitter che io ho già insomma qui caricato poi vediamo, ovviamente gruppo Telegram che anche qui è importante se qualcuno poi è effettivamente interessato ad approfondire consiglio sempre di unirsi al gruppo e sentire un pochino quelle che sono le conversazioni e poi insomma tutta la parte restante di community c'è un meccanismo di lottery, quindi una lotteria devi detenere almeno un trilione di Katgirl per partecipare all'estrazione e come potete vedere qui l'ultimo che ha vinto ha vinto 10,08 trillion di Katgirl coin quindi c'è anche questa cosa che arricchisce un pochino quello che è l'aspetto complessivo di questo coin nella sezione Kativerse viene appunto presentato quello che è marketplace poi abbiamo workshop, farming e social è una parte che vi lascio poi approfondire qualora siete interessati qui c'è la parte che vi dicevo per fare la transazione quindi cliccando su qui Visit Hub a quel punto poi farete Unlock Wallet avete la possibilità di collegare il vostro Metamask nel caso che utilizzate Metamask o anche Trust Wallet insomma quello che utilizzate e potete portarli poi in portafoglio quindi per quanto riguarda le transazioni riceverai un 4% ogni transazione il 2% appunto va a contribuire alla parte della lotteria 3% nella liquidity pool e 1% ad arricchire quello che è il budget per il marketing quindi viene ricordato poi che il 50% del supply è stato mandato a un cosiddetto black hole nel momento del lancio questo vuol dire che questo black hole è come se fosse un altro wallet e quindi questo riceve il 4% ogni transazione andiamo poi a verificare che c'è un meccanismo di anti-wall classico quindi il compratore non può comprare più in 1% della supply totale e poi l'equity è stata bloccata su Unicrypt qui abbiamo ancora un tasto che ci consente di andare poi a comprarlo per quanto riguarda quindi il total supply quindi nella sezione token matrix abbiamo la total supply 100 quadrilioni bruciati 50 e il circolante in questo momento è 50 quindi qui vedete ancora l'immagine di questo coin sicuramente interessante per quanto riguarda la roadmap nella fase 3 secondo me la fase più importante che possiamo analizzare è quella della community telegram in questo momento come abbiamo visto prima eravamo intorno ai circa 6.000 iscritti contano di arrivare intorno ai 10.000 e successivamente poi ci sono altre fasi che possono essere più importanti soprattutto per quanto riguarda appunto il marketplace il workshop il merchandise store per creare sempre di più una community che possa poi effettivamente essere sempre più solida qui troviamo tutti i lanci insomma disponibili su CoinMarketCap Coin, Gicop, anche Swap, Adbit, Dex, Deboot, Chartcoin per quanto riguarda l'acquisto lo abbiamo visto c'è questo video che vi segnalavo prima molto interessante che vi fa vedere di fatto come collegare insomma a livello, proprio con le istruzioni Metamask, aggiungere poi Bunger, Parchain, Comprare i BNB e fare lo Swap con Cardigan Coin ripeto può essere utile per chi magari non l'ha mai fatto e vuole avere una guida passo per passo è questo video ora non lo posso ovviamente aprire ma lo potete poi fare voi per quanto riguarda le domande più frequenti allora direi che possiamo vederci dove posso detenerle ovviamente dicevamo anche prima Metamask, Trust Wallet e Coinbase per quanto riguarda come sempre capita se doveste avere degli errori sulla transazione di aumentare lo slippage per quanto riguarda poi possiamo vedere eccolo qui come il premio della lotteria viene distribuito la cosa carina è che di fatto vengono trasferite automaticamente al vostro wallet non dovete fare assolutamente nulla ovviamente poi le altre domande più frequenti le potete anche qui vedere qui invece potete approfondirle voi per quanto riguarda invece la canzone ufficiale di CatDarkoin potete vedere questo video che è esattamente in questo punto qui e potete ascoltare quello che è un po' l'inufficiale di questo token per ovvi motivi non lo posso fare qui per non incorrere poi in una segnalazione di copyright direttamente da YouTube per quanto riguarda il white paper io me lo sono già scaricato nella parte Mission and Values secondo me la parte interessante è quando appunto dichiara il discorso di voler creare la awareness quindi creare la consapevolezza o rendere più sviluppato il concetto degli NFT e per questo che questo è una NFT token driven cioè orientato all'NFT e sicuramente questo può avere poi un impatto quando guardiamo poi il discorso della quotazione e del prezzo per quanto riguarda quindi il sito direi che abbiamo completato quello che è un po' tutto ciò che è disponibile direi che possiamo aggiungere qualche considerazione invece per quanto riguarda la quotazione e quindi ci spostiamo sull'aspetto grafico come potete vedere all'inizio di giugno il valore era assaiuto molto mentre ora in questa fase ovviamente dettata anche dal fatto che insomma sul discorso delle criptovalute è successo veramente di tutto insomma Bitcoin si è visto dimezzare in poche settimane e quindi sicuramente anche queste tipologie di token ne hanno risentito pesantemente quello che si può vedere è che effettivamente nel momento in cui una persona decidesse di comprare questo token lo potrebbe fare con l'ottica di mantenerlo fin quando il discorso legato agli NFT o comunque questa tipologia di asset che stanno prendendo sempre più piede anche all'interno del mercato delle criptovalute possa essere sempre più popolare sempre più famoso e una tipologia di token come questo potrebbe effettivamente portare poi a un rimbalzo anche significativo magari anche fino ai livelli che erano stati raggiunti in questo picco parliamo di poche settimane fa quindi questo è un po' da punto di vista grafico quello che si può evidenziare ovviamente dicendo anche che queste tipologie di coin sono investimenti sicuramente molto volatili e molto rischiosi per cui come sempre magari da approcciare con una componente di liquidità piuttosto ridotta e considerando che queste poi considerazioni non sono ovviamente consigli finanziari ma fate sempre voi i vostri ragionamenti quindi questo era il mio pensiero su catbird coin ovviamente ragazzi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate se già la conoscevate o se questo discorso appunto di queste credito collegate alle NFT possano poi interessarvi magari prendere una posizione in questo momento in cui la quotazione se vogliamo è quasi ai minimi storici se ancora non l'avete fatto mi raccomando iscrivetevi al canale cliccando anche sulla campanellina lasciatemi un like al video per supportare il canale con l'algoritmo di YouTube e come sempre quindi ci vediamo al prossimo video al prossimo aggiornamento ciao ciao ciao